Questa storia è, ma certo che ancora è sempre, dici tu, e quando mai ti prendi più? Ma che storia è, sei in forma, certo che sei un bel fenomeno anche tu, da farti prendere così. Sai che cosa c'è, non importa se io, che porta costa sempre un po' di più, o pago io, o pago in più, di solito pago io. Passa. Pass. Grazie a tutti.